Fase confusionaria, prova ad approfittarne il San Paolo La palla tenuta lì al centrocampo, la smista sulla destra, grande cambio gioco, cross al centro subito E non riesce a insaccare l'attaccante, prova un lancio lungo, alla ricerca della punta anticipata ancora dal difensore Ancora San Paolo, quasi atterrato, prova il sinistro, palla che finisce fuori di pochissimo Accante bianco celeste, e San Paolo che può ripartire, cerca sempre il centrocampista centrale che allarga sulla destra, meravigliosamente Palla dentro, e il gol del San Paolo che fa 1-0 A sinistra, palla lunga, torna indietro San Paolo Prova il giropalla, perde un pallone sanguinoso, il destro, grande parata del portiere Ancora il San Paolo che prova a venire in avanti C'è spazio, può concludere col sinistro Palo clamoroso del San Paolo Galassi, palla lunga, non arriva, ancora dire 7 della Lazio, che prova la conclusione con il destro Il palo Ancora ripartenza del San Paolo però Iniziate che è molto libero, palla dentro per Santini, 1 contro 1, Santini Paramancini Posiziona la barriera, il San Paolo Va Falconieri Il destro La traversa di Falconieri Ancora San Paolo che prova a uscire con Galassi Perde il pallone Palla per De Francesco Allargata dall'altra parte Per Duro Duro col destro Salva sulla linea Il difensore del San Paolo Palla fuori Indietro, rischiosissimo questo passaggio La mette fuori Il San Paolo Fa la lunga che finisce a Conti Conti che la tiene Conti che va 1 contro 1 Contro Macini Conti, Conti La lascia lì E se lo divora il San Paolo Tutto è pronto? Decide di andare con il destro Sì Falconieri Va con il destro E la palla che finisce Dentro Ha pareggiato la Lazio Conti alla battuta Calcio di punizione Dalla sinistra Va Conti con il destro Salva sulla linea Il difensore della Lazio Prova il cross Opara la mette fuori Ancora la conclusione Opara Due volte Ancora Chilelli La Lazio ci prova Chilelli Palla dentro Il colpo di testa Grande parata di Opara Da Chilelli Chilelli che imposta Lancio lungo da De Francesco Sull'alto di destra De Francesco Palla all'indietro Duro Se la posta sul sinistro Duro La Lazio in vantaggio Il bambino Non falco niente Vai 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 Palla recuperata De Francesco Limite dell'area di gole De Francesco La mette dentro 3-1 Lazio Quella tiene lì Finisce Qui la Lazio Contro ogni pronostico Vince contro il San Paolo 1-3 Grazie